Beh, ciao a tutti ragazzi, io sono Lorenzo e benvenuti in questo nuovo video. Un video molto speciale, come avrete letto dal titolo, il tour di Assassin's Creed Mirage. Ma in cosa consiste questo tour? In pratica io andrò a trovare voi, come vedete qua in sovraimpressione, ho fatto queste tappe qui. Cosa consisteva questo tour, visto che ormai è finito? Consisteva nell'andarvi a trovare, e sono andato a trovare gli iscritti che sono iscritti da molto tempo, che ormai non potrei considerare più tali se non grandi amici. E vi farò vedere tutto il percorso che ho fatto, tutte le tappe e soprattutto l'intervista fatta a loro. E come premio hanno ottenuto il gioco di Assassin's Creed Mirage. Andiamo a vedere insieme quale viaggio ci aspetta. La prima tappa è stata a Vicenza, sono partito da Trieste la mattina presto e sono andato a trovare la prima iscritta. Siamo con nome Valentina? Nome d'arte? Palermo 75. Età? 38, da poco. Ok, città, ci troviamo a? Vicenza. A Vicenza. E fammi una descrizione breve di te stessa. Sono una ragazza tranquilla che ama i videogiochi fin da piccola, fin da quando mio papà di un computer che avevamo ha preso il primo Cristo Persia o Dietrich, così forse un po' la passione da mio papà. Ok. E videogioco preferito in assoluto? È difficile ma io mi sono tanto affezionata, è un bel ricordo di Siberia o Siberia, il primo, non so bene il pronuncio. Che è un'avventura grafica veramente con un'ambientazione spettacolare, con una storia veramente bella che consiglio a tutti. Poi invece Assassin's Creed preferito è per che? Syndicate, anche lì per l'ambientazione, l'Inghilterra di 300 fino a 300 è spettacolare, anche se sono ambientato a Londra, stupendo. Cioè poi tutta la storia, la storia anche se è molto bella, mi ricordo anche le missioni secondarie di aiutare i bambini che erano schiavi usati nelle pub che così avevo tanta, mi metteva tanta voglia e tanta passione. Poi mi piaceva la base che era su un treno che andava, i gemelli. I gemelli frasi. Un videogioco che mi ha fatto comprare una console. Ah, ok. Quindi allora mi viene da farti la domanda, che piattaforma usi, che piattaforma giochi? PlayStation 4 in questo momento, è sempre avuta da PlayStation, a parte da Piccolo e Super Nintendo. Ah, ok, perfetto. Da quanto tempo sei iscritta al canale invece? Più o meno. Da dopo l'uscita di Valhalla. Quindi diciamo quasi 2020-21. Sì, ecco. Ok, quel periodo là. Quindi diciamo da tanti anni ormai siamo nel 2023, quindi ci conosciamo ormai. E cosa ti ha colpito di più dal canale? Cercavo delle risposte dopo aver visto un gameplay di Valhalla su un canale e cercavo delle risposte sul significato delle spiegazioni. E in fatalità, digitando, ho trovato questo canale, il vostro canale. E la spiegazione è tutto, mi era piaciuto. Poi in quel momento avevo iniziato a fare anche delle live su YouTube, ho iniziato a seguire le live su YouTube e dopo... E invece un aspetto positivo e un aspetto negativo del canale che hai trovato? Positivo appunto perché avevo tutte le varie informazioni su Moodle di Assassin's Creed che comunque è interessante. Una serie che consiglio come trama e tutto. Negativo, adesso lo saprei. Qualche consiglio che pensi che magari qualche miglioramento, qualcosa che vorresti vedere? Se ce l'hai, se no... No, non viene in mente. Ok, va benissimo. Vuoi salutare qualcuno, aggiungere qualcos'altro? No, non lo sai. Va bene, allora io invece ti ringrazio veramente tanto per questi anni comunque di supporto. Grazie a te. E ti ringrazio anche per il fatto che sia nelle mie video, nelle mie live, ci sei sempre stato. Anche su quelle di Marco. E infatti ti ringraziamo entrambi anche se lui non è più presente in questo preciso momento. E io ti invito ovviamente a venire a Trieste magari per fare qualcosa di bello. Pensavo di fare qualcosa in grande, quindi sarebbe... Una bella festa. Sì, infatti prima mi dicevi che sei stata anche a Trieste, quindi... Sì, tanti anni. E poi, ecco, alla fine del video in pratica ci dovrebbe essere una sorpresa, no? Come ti avevo anche già accennato prima. Sarebbe il gioco di Assassin's Creed Mirage. Ma siccome tu avevi accettato a dicembre... Ti chiesto che non l'avevo giocato. Esatto, che non aveva giocato ad Assassin's Creed Valhalla. Ti ho regalato la Complete Edition, che comunque lasceremo qua sotto in pressione, così facciamo vedere un po'... Sì, sì, quello che... Esatto. E niente, io veramente sono felice di fare questo viaggio e di averci incontrato. Grazie, c'è chi. Quindi mi fa veramente piacere. E quindi niente, salutiamo da Vicenza. Ciao, ragazzi. Ciao. Il giorno dopo sono partito per la volta di Piacenza, dove sono andato a trovare un altro iscritto. Nome? Davide. Nome d'arte? Alexios. Città? Piacenza. Fai una breve descrizione di te stesso, hobby, passioni, personalità? Allora, non ho delle veri hobby, ho delle passioni che quando posso faccio più che volentieri perché mi piacciono. Non mi piace ascoltare la musica, soprattutto quella della densa anni 90 e mi piace molto anche giocare, videogiocare. Un aspetto della tua personalità? Un aspetto della mia personalità? Come ti reputi come persona? Anche fin troppo generosa, direi più delle volte. Ok. Videogioco preferito in assoluto? The Sims. L'ho giocato già nel 2000, mi sono appassionato questo gioco e ho sempre continuato a seguire la serie. Ok. Assassin's Creed preferito e la motivazione? Allora, Assassin's Creed preferito è Odyssey, l'ho giocato nel 2018 quando è uscito e poi da lì ho cominciato anche a giocare anche a Valhalla e da lì mi sono appassionato a tutto il mondo di Assassin's Creed. Da che piattaforma giochi? PC, solo PC. Ok. Da quanto sei iscritto al canale, più o meno? Da la stima? Da 2021, da gennaio 2021. Gennaio 2021, quindi da un bel po'. Ci conosciamo da un bel po'. Assolutamente sì. Cioè praticamente Assassin's Creed Valhalla è uscito a settembre 2020 e l'ho finito nel dicembre 2020, poi ho visto un tuo video a YouTube nel dicembre 2020 e da lì poi mi sono appassionato a tutta la lore di Assassin's Creed. E appunto poi mi sono iscritto al tuo canale 2021 e anche Telegram e tutto il resto e poi la cosa è andata avanti. Ok, cosa ti ha colpito di più del canale? Cosa mi ha colpito di più del canale? Soprattutto Twitch, soprattutto Twitch perché anche il canale Twitch io mi diverto da morire, mi faccio un sacco di risate. Ogni volta che portavi un video continuavo sempre a ridere, cioè proprio era un format veramente divertente. Con gli sketch che succedevano, le cose ok, ok. Esatto, esatto. E tornerò a fare anche quello sicuramente. Esatto, infatti invece la cosa negativa è che appunto manchi da un bel po'. Ah, ok. La cosa negativa era quella. Provvederò a rimediare con questa mia mancanza, insomma, ecco. Vuoi salutare qualcuno o aggiungere qualcosa? No. No? No. Così proprio a freddo, stessa cosa l'ha detta anche Valmus, quindi tranquillo, non salutiamo nessuno. Esatto. E allora io invece adesso volevo ringraziarti per tutti questi anni che comunque ci siamo sentiti comunque, anche nel privato, mi hai dato consigli comunque, molto spesso su Telegram che... Figurati. Quindi veramente... Tu comunque mi hai dato un sacco di consigli e che ne ringrazio. No, ma anche e soprattutto per il supporto perché grazie a voi comunque alla fine ogni giorno ho sempre voluto continuare col canale. Mi sono sempre appassionato di più sia alla saga ma anche a adesso fare la vostra conoscenza, ecco perché, del tour di questo magico tour. E proprio per dimostrare la mia riconoscenza e ringraziarvi ho deciso di regalarti, adesso metterò qua sopra in sovraimpressione, il gioco di Mirage. Grazie. Grazie. Sì, figurati. Mi fa veramente piacere e spero che avremo anche modo di commentarlo poi. Sì, sì. Così lo giocheremo tutti quanti insieme più o meno e... Volentieri, volentieri perché ci saranno ancora altri, mi auguro, altra lorda da poter discutere poi. Esatto. E infatti quello, quello è importante. Era bellissimo le live con gli iscritti. Esatto. Quindi lì faremo sicuramente dei commentari e così. Tante congetture che abbiamo fatto tutti questi anni, pensando magari che questo era... perché faceva questo, perché nell'allora si diceva questo, quest'altro. Insomma, tante congetture che abbiamo sempre fatto. E tutto in tutti questi anni, insomma, almeno io da quando è iniziato nel 2021. Sicuramente non mancheranno. E niente, allora ci salutiamo, salutiamo i nostri amici. Ciao da... Piacenza. È bello. Quindi, ciao da Piacenza. Il prossimo a cui vado a trovare sarebbe? Il prossimo a cui vado a trovare sarà Andrea, ovvero conosciuto come Algatron, ma comunque vi spiegherà lui. Sì, ok, lo andremo a conoscere insieme. Ok, allora passiamo la linea a Algatron. Questo è per quanto riguarda il periodo di marzo e vi devo dire che già è stata un'emozione unica dove non vedevo l'ora, bramavo sempre di più che arrivasse aprile. E infatti, il giorno della mia partenza, ovvero il 15 di aprile, ho deciso di andare a Brescia a trovare un altro iscritto. Ehi là, ciao a tutti ragazzi. Allora, ci troviamo a casa di... Andrea Algisi. Ok, intanto ti ringrazio per l'ospitalità, tanto per cominciare. Nessun problema, nessun problema. Quindi, hai detto già il nome. Qual è il tuo nome d'arte? Il mio nome d'arte è Algatron94. Su Discord sono Edward Kenway, ma Algatron94 è anche il nome del mio canale YouTube. Comunque, questo qua comunque è anche il mio nome d'arte. In caso comunque ragazzi vi lascerò il canale YouTube sotto in descrizione, così se volete dare un'occhiata avrete anche il suo canale. Sì. E' età? E' età? Io ho 28 anni, sono comunque nell'anno dei 29, perché li compio all'ultimo dell'anno, quindi sono il più giovane dei 94, insomma. Eh, quindi abbiamo quattro anni in differenza. Esatto, esatto. Città? Città, Pompiano, in provincia di Brescia. In provincia di Brescia. Quindi nella bassa Brescia. Ok. Allora, poi descrivi te stesso quali sono i tuoi hobby. Allora, prima di tutto di hobby, io sono nel gioco molto a Yu-Gi-Oh! perché sono anche nell'ambito del competitivo. Vado, diciamo, a fare i local anche durante il fine settimana, diciamo vado addirittura fino a Crema, quindi oltre ai passi i miei confini della mia provincia, però comunque per me non è nessun problema, perché tanto comunque le persone che ci sono là sono anche molto simpatiche. Mi trovo anche molto bene, vado anche qui a Rovato, c'è anche lì una fometteria, ci sono dei ragazzi che conosco da una vita, comunque sono nell'ambito del competitivo, amo i videogiochi, infatti è così che ci siamo conosciuti con Assassin's Creed. E poi personalità, io di base sono anche una persona abbastanza tranquilla, però quando mi fanno girare i cinque minuti divento una... Gli Zebedei, insomma. Esatto, esatto. Ditto in maniera educata. Esatto, quando mi fanno girare un po' gli Zebedei, in maniera educata, divento una bestia. In aggiunta faccio anche teatro, sono parte di una compagnia teatrale, che facciamo prosa, faccio commedie, l'ultima che abbiamo fatto l'abbiamo fatta qualche settimana fa ed è andata anche abbastanza bene. Abbiamo fatto anche la rassegna tra gennaio e febbraio ed è andata anche lì molto bene. Quindi, diciamo, mi tengo anche molto impegnato con la questione dell'arte, dato che ora Brescia, insieme a Bergamo, è la capitale. Sono la capitale dell'arte, quindi tanto di cappello per noi. L'uomo di cultura. Esatto. Allora, videogioco in assoluto preferito? In assoluto Elder Scrolls V Skyrim. Io adoro il gioco. Quando ho iniziato a giocare, io meglio, ho giocato con Oblivion, con il computer, però ho utilizzato anche una mod che mi impediva di non perdere vita a robe simili, però non era tanto divertente. Ho preso anche Skyrim per Xbox 360 e io mi sono innamorato. Mi sono innamorato di quel gioco. Io adoro l'ambientazione fantasy, l'ambientazione che comunque mi ha fatto anche ispirare a interessarmi al mondo degli scandinavi, ad esempio i vichinghi e così via. Anche se non è tutto quanto scandinavo Skyrim, è un'ambientazione molto simile, però ci sono molte differenze che prendono anche da polacchi e così via. Vabbè, sì, sì. E invece Assassin's Creed preferito è perché? Allora, io in teoria ci avrei due pari merito, però visto che devo fare una scelta molto dolorosa, io dico Valhalla. Valhalla, io amo troppo l'ambientazione, amo troppo la mitologia e mi ha preso, mi ha preso. Però per i merito ci sarebbe stato anche Black Flag, che è stato il primo proprio a livello anche affettivo, però purtroppo devo metterlo a secondo posto per scelte, diciamo, dolorose. E invece da quanto sei iscritto al canale? Come, vabbè, sono iscritto dal lontano 2020, come abbiamo detto prima, dal dicembre, perché mi ricordo molto bene che in quell'epoca ti avevo chiesto, secondo te, riguardante il video della setta di Cosmo, tra Templari e Assassini per la setta di Cosmo, e quindi me lo ricordo anche molto bene. All'epoca avevi fatto addirittura la prima live e da lì avevamo deciso di creare anche il gruppo Telegram. E' vero, e' vero, e' vero, e' vero, e' vero. Quindi da un bel po'. Esatto, esatto. Invece cosa ti ha colpito di più del canale? Mi ha colpito di più il fatto che tu, perché davvero quando ti ho visto ti sei dimostrato, diciamo, guarda questo ragazzo qua si dimostra molto bravo, cioè alla fine le finite, anche disponibile. Quando avevo chiesto di fare un video di approfondimento tra Assassini e Templari ho visto che comunque tu sei stato anche molto disponibile. Quindi ha dimostrato disponibilità, una richiesta, e quindi io mi sono detto, va bene, questo qua è un bravo, cioè io ho deciso, mi iscrivo, perché se lo merita. Quindi se avete altre richieste mi raccomando qua sotto nei commenti, per fare altri video scrivetemelo qua sotto, io ve li farò sicuramente. Un aspetto positivo e un aspetto negativo del canale? Allora, l'aspetto positivo, come ho detto prima, è che sei molto disponibile e soprattutto per questa disponibilità abbiamo creato anche una bellissima community, ci sentiamo. Sì, veramente. E così via. Un aspetto negativo è che è anche molto comprensibile, è il fatto che in questi ultimi tempi sei molto, non sei molto più presente come una volta, però è comprensibile. Ognuno ha i propri impegni, alla fine, ragazzi, va bene essere su YouTube, ma mi raccomando, ricordatevi che qui da fuori, da questo canale, da questa rete, abbiamo anche fuori una vita, quindi di conseguenza non pensate sempre di stare dentro la rete, perché alla fine la rete non vi porterà gioia. No, no, infatti, infatti, no, più che altro sì, ho avuto diverse robe da sbrigare, ma finalmente sono tornato disponibile, quindi sicuramente ci saranno altri contenuti, quindi cercherò di tappezzare questo aspetto negativo. E poi, niente, purtroppo anche le notizie di Assassin's Creed sono calate, ma cercherò anche di portare altri contenuti oltre Assassin's Creed, come già ho detto, altri giochi, comunque, sempre l'argomento è quello, anche perché del resto il canale comunque si chiama Freedom for Game. Esatto. No, Assassin's Creed, perché sennò avrei dovuto portare solo quello. Esatto. E bene, io direi che manca solo questo, vuoi salutare qualcuno, aggiungere qualcos'altro? Allora, salutare qualcuno, allora saluto tutti i ragazzi del canale degli assassini, che io saluto molto volentieri, e saluto anche, visto che ci sono anche qualche, qualcuno, qualcuno compilifico di solito su in rete, come, ad esempio, dice a tutti quanti voi che magari non sto simpatico e tutto, ragazzi, ognuno ha la propria vita, quindi ciao, buona vita, ma, sì, onestamente, chi se ne frega. Ognuno ha le sue opinioni e così via, ma se dopo alla fine dite delle cose un pochino esagerate, alla fine ci troverete il sottoscritto. Va bene. Noi ragazzi vi salutiamo, io lascio la parola al prossimo ospite. Antonello. Alla nostro caro Antonello, che saluto anche lui, ringrazio, e ti auguro, ovviamente, di passare una bella giornata con il nostro mentor, che davvero è stato una grandissima persona. Quindi, ciao a tutti quanti voi, bella! Bella! Ciao a tutti!